Ciao a tutti, in questo video per la rubrica ricette vegetariane che ritorna dopo tanto tempo, che era stata, diciamo così, un po' abbandonata, la nostra Martina da Vienna ci ha portato, mandato una ricetta che è appunto la torta viennese di Martina. Quindi ringrazio Martina per la ricetta che andrò a leggere. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, ecco qua la ricetta vegetariana di Martina, la torta viennese di Martina. Allora, servono 5 uovi intere, 5 cucchiai di zucchero, le uovi intere vanno sbattute con i 5 cucchiai di zucchero e poi aggiungere 5 cucchiai di farina. Quindi 5 uova, 5 cucchiai di zucchero, 5 cucchiai di farina. Mescolare leggermente e mettere in forno a 170 gradi per 12 minuti. Poi bisogna fare la crema, bisogna montare 250 grammi di mascarpone con 2 cucchiai di zucchero e aggiungere 250 millilitri di panna montata. Dopodiché mettere sopra fragole fresche e coprire con agar trasparente. È una torta molto bella che viene fuori ed è una torta oltretutto viennese inviata da Martina, da Vienna appunto. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Grazie!